Buongiorno sono Urbano della San Moreno con Svage Audi di Fuscecchio. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco usato. Si tratta di questa bella Audi A6 Avant 2000 turbo di 190 cavalli. Allora alcune informazioni veloci. Carrozzeria esterna come vedete da queste immagini si presenta ancora molto molto bene. Non ci sono ammaccature non ci sono graffi solo qualche puntino sul cofano da anteriore delle piccole sassatine però niente di particolarmente granosa. Poi internamente il suo interno tutto in pelle molto bello molto bello anche questo lavato igienizzato a vapore come il nostro solito anche se il precedente proprietario non fumava quindi non ci sono cattivi odori non ci sono strappi non ci sono usure. La vettura è dell'anno 2015 S-Tronic, climatizzatore B-Zona, navigatore, ora vi farò vedere, 220.000 km. Guardiamo se ce li fa vedere. Intanto vi faccio vedere anche come detto il navigatore. Volante multifunzione. Eccoli qua 220.000 km tutti completamente tagliandati presso la nostra officina service Audi. Quindi molto una macchina veramente molto molto controllata. Allora per informazioni più precise dovete venire a vedere la macchina, ve la facciamo provare oppure telefonate per prendere un appuntamento e vi sarà spiegato tutto quello che riguarda l'acquisto. Potete andare sul nostro sito diretto autosani.it troverete tutte le spiegazioni sulle vetture che abbiamo in vendita. Spiegazioni più dettagliate. Quindi questa è già una vettura già disponibile. Potete ripeto venire a vederla, a provarla, a chiedere informazioni. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e come diciamo sempre alla prossima vettura.